Il corso HR Design, strumenti e metodi per la gestione delle competenze delle persone, si distingue per la sua capacità di fornire strumenti pratici per la gestione strategica delle competenze, favorendo la costruzione di un legame solido tra dipendenti e azienda. Tra i punti di forza ci sono l'attenzione all'integrazione delle esigenze individuali e organizzative, l'uso di metodi per la definizione dei ruoli e il monitoraggio delle competenze in linea con la vision e mission aziendale. Il corso offre, inoltre, tecniche avanzate per l'identificazione delle competenze critiche e strumenti per l'assessment, assicurando un approccio efficace allo sviluppo del capitale umano. Puoi scegliere se seguire il corso, in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.